Un incontro con al centro il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e soprattutto sulle opportunità per la Basilicata e la Città dei Sassi è stato organizzato da Confapi, Amatera, con il Vice Ministro dell'Economia Laura Castelli come ospite che, ai nostri microfoni, ha fatto il punto sullo stato dell'arte del PNRR soprattutto cercando di delineare quelle che saranno le prossime sfide che interesseranno la Basilicata e il Mezzogiorno in particolare. Il PNRR procede nell'attuazione, nella costruzione del monitoraggio di quelle che saranno le procedure in collegamento con i comuni, con le regioni e con quelle che saranno in gran parte anche i bandi. Stiamo lavorando con i territori sul completamento delle progettazioni e a questo si aggiunge il fondo complementare che è un fondo che il Governo ha voluto aggiungere e che riguarda molto il Sud, soprattutto sui temi di innovazione, di progettazioni concrete come le reti stradali e che permetterà ancora di più di sviluppare quelle parti interne, le aree interne di un territorio particolare come la Basilicata e come il resto del Sud. I tempi sono quelli che ci sono stati dati, quindi i tempi che vanno fino al 2026. Dobbiamo rispettarli, essere veloci, anche per questo abbiamo aumentato il contingente all'interno dei comuni con un piano dedicato di persone che si aggiungerà alla normale amministrazione di un ente e che ci permetterà di rispettarli. È una grandissima occasione ma è proprio un momento storico nel quale le imprese non solo si potranno rialzare ma avranno moltissimo da fare.